Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale. Apriamo il TG6 con la cronaca, andiamo a Teramo dove c'è stata un'importante operazione svolta nelle ultime ore dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore complessivo di oltre 500 mila euro. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Dieci ordinanze di custodia cautelare di cui sei in carcere e quattro misure di obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutte rivolte nei confronti di altrettanti albanesi e il bilancio dell'operazione denominata Elio svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo e coordinata dal PM Andrea De Feis che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore sul mercato di 500 mila euro. Si tratta di un'importante indagine effettuata dalla procura di Teramo con la valida e incombiabile opera dell'arma dei carabinieri di Teramo e del nucleo operativo che ha portato alla emissione di 10 misure custodiali nei confronti di 10 appartenenti all'etnia albanese per traffici rilevanti di cocaina. Le persone erano già conosciute le forze dell'ordine? Stiamo parlando di persone con elevata pericolosità sociale che già erano state più volte denunciate anche per spaccio di sostanze stupefacenti e che hanno dimostrato attraverso gli accertamenti che sono sviluppati nel corso dei mesi una notevole pericolosità sociale con sistematici spacci non solo nel Teramo ma nell'Interland tra persone anche di ambienti di notevole possibilità economica. Questa operazione è conclusa oppure ci sono indagini ancora in corso? Sicuramente come tutte le operazioni da una poi dopo ne vengono sviluppate altre quindi noi sempre con la collaborazione e il sostanziale apporto della procura faremo ulteriori riscontri anche da tutti gli indizi che abbiamo trovato nella mattinata e sicuramente non escludo che ci possano essere anche ulteriori risvolti futuri. Nel corso dell'operazione che si avvalsa anche di intercettazioni e pedinamenti alcuni degli indagati sono stati ripresi mentre spacciavano in presenza dei figli di 2 e 3 anni. Cambiamo pagina, la Corte Costituzionale ha dichiarato oggi inammissibili i ricorsi per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalle regioni sulla questione delle trivellazioni. I ricorsi riguardavano il piano delle aree, il regime delle concessioni ed erano proposti nei confronti del Presidente del Consiglio, del Parlamento e dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Cassazione. I ricorsi sono stati bocciati perché, spiega la consulta, non è stata espressa la volontà di sollevare i conflitti da almeno 5 dei consigli regionali che avevano richiesto il referendum prima delle modifiche legislative sopravvenute. Parliamo ora di politica regionale, andiamo all'Aquila perché quasi alla fine della seduta del Consiglio di oggi, tornato all'Aquila dopo la parentesi invernale di Pescara, si è sfiorata la rissa tra il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ed il collega di maggioranza, il Consigliere regionale aquilano Pierpaolo Pietrucci. I due tra lo stupore generale in aula sono venuti quasi alle mani e sono stati divisi tra gli altri dal Consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro e dall'assessore alla Sanità e al Bilancio Silvio Paolucci. Lo scontro, prima verbale poi degenerato, ha riguardato il Masterplan Abruzzo. Il giovane consigliere aquilano ha infatti rimproverato al Governatore D'Alfonso di aver dimenticato nel piano di investimenti le aree interne e l'Aquila, privilegiando l'area costiera e la montagna in riferimento, soprattutto alle stazioni sciistiche di Roccaraso. Parliamo ora di lavoro. Manifestazione questa mattina a Pescara contro i tagli annunciati dal colosso del tessile di penne Labrioni a presentarsi sotto il Palazzo della Regione in via Passo Lanciano, sempre nel capoluogo adriatico. Oltre 400 lavoratori, sigle sindacali e rappresentanti politici. La richiesta è quella di un intervento da parte del Ministero delle attività produttive per salvare tutti i posti di lavoro e a tal proposito proprio questo pomeriggio il Presidente D'Alfonso ha detto che sulla questione Brioni nei prossimi giorni avrà un incontro con il Ministro Guidi. Ma andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Forza ragazze, facciamoci sentire, Labrioni non deve morire! Scendono in piazza i lavoratori dell'Abrioni, il colosso del tessile che la scorsa settimana ha annunciato 400 esuberi sul personale. Una notizia che ha inevitabilmente preoccupato l'intero territorio. Il marchio nel 2012 era stato acquisito dal gruppo francese Kering, entrando in una nuova fase sotto la guida del direttore creativo Brandon Mulan, da poco invece uscito dal brand. Sicuramente un taglio di questo tipo significa deprivare completamente un territorio, che è l'area Vestina. Non è un problema che riguarda solo la nostra provincia, ma è un problema che riguarda l'economia regionale. E quindi siamo qui questa mattina anche in attesa di essere ricevuti dall'assessore attività produttiva e vediamo di capire cosa succede. A manifestare ci sono i sindaci dell'intera area Vestina venuti a sostenere il sindaco di Penne, Rocco D'Alfonso. Questa avvertenza recca con sé un caso drammatico che riguarda il destino di 400 dipendenti, dipendenti dell'Abrioni. Un'intera area, l'area Vestina oggi è qui in difesa dei diritti di questi lavoratori, perché non è giusto che per scelte imprenditoriali sbagliate siano i lavoratori a pagare. Ci sono 12 comuni rappresentati oggi. L'appello è alle istituzioni, al ministro delle attività produttive e ad un accordo che riporti sui propri passi la decisione che coinvolge 400 famiglie, in molti casi monoreddito. Noi abbiamo chiesto come sindacato, come organizzazione sindacale a livello unitario, un impegno all'Abrioni di esplorare tutte le possibilità sia all'interno che all'esterno del gruppo per portare il lavoro alla Roma Style. La maggior parte delle persone che vedete qua sono tutti operai e la maggior parte sono anche monoreddito, situazioni in cui farebbero collassare tutte le economie pennese. Come avete visto dalle immagini del servizio, a questa manifestazione ha partecipato anche il vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, che ha spiegato quali sono le misure che la Regione chiederà al ministero per salvare una fetta importante del comparto tessile abruzzese. Nel giorno dell'annunciata manifestazione dei lavoratori dell'Abrioni, scesi in piazza per gridare di non essere licenziati, la Regione Abruzzo muove già il proprio piano per la salvezza e ancora una volta Giovanni Lolli, assessore alle attività produttive, a tentare l'accordo con il ministero. Ancora una volta perché, come spiega, in Abruzzo sono ben 81 le vertenze come quelli dell'Abrioni. Il cammino è il seguente, intanto li ho convocati subito, oggi, perché bisognava dare la sensazione e l'idea che, insomma, di fronte a una cosa di questo genere nessuno di noi se la prendeva comoda. Ovviamente è una questione nazionale, quindi io adesso annuncerò all'incontro il tavolo nazionale che è stato già convocato, era mi richiesto a Roma con l'azienda e dopodiché noi adesso dovremmo sentire che piano industriale ha l'azienda e anche noi mettere a disposizione tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione. Io devo dire a tutti, non sarà facile, è una delle vertenze difficili questa qui, però noi le vertenze, io ne ho seguito 80, anzi 81, alcune di queste sono andate a buon fine. Mai si sarebbe aspettato una notizia di questo genere da un marchio leader del tessile come l'Abrioni di Penne, simbolo del Made in Italy più specializzato e apprezzato nel mondo. Il tessile infatti rientra nei comparti sui quali la regione ha investito speranze e piani. Ci sono delle attività che hanno un valore in più per il fatto di essere attività di eccellenza, sulle quali noi scommettiamo per il futuro. Noi abbiamo fatto la scelta nella strategia S3 dell'Abruzzo, cioè la strategia di specializzazione intelligente, di inserire il tessile non a caso come uno degli assi strategici, ma noi pensiamo a quale tessile, certo non più al conto tessile in Fafason che si faceva qualche anno fa. Contiamo che ci sia qui l'eccellenza, l'alta gamma, ma se proprio Brioni e Canali, cioè le due strutture di più alta gamma che ci sono, non in Abruzzo, io direi proprio in Italia, cominciano a cedere e allora il problema diventa serio. E noi restiamo a Pescara perché l'Abruzzo punta sempre più al mercato asiatico, in particolare a quello della Corea del Sud e questa mattina a Pescara in visita presso la Camera di Commercio è arrivato proprio l'ambasciatore della Corea del Sud in Italia, accompagnato, invitato in questa visita nella nostra regione dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi, Corea del Sud che rappresenta la tredicesima potenza economica mondiale per l'Abruzzo, importanti possibilità di investimento con proprio gli investimenti che sono stati portati avanti negli ultimi anni che hanno portato ad una crescita del 30%, ma andiamo a vedere il servizio proprio sulla visita dell'ambasciatore della Corea del Sud a Pescara. La Corea del Sud rappresenta la tredicesima potenza economica mondiale, quarta di quelle asiatiche. Tra i marchi più noti, colossi quale Samsung e LG Hyundai, in Abruzzo si aprono le porte alla collaborazione grazie all'intervento del senatore di Forza Italia Antonio Razzi, non nuovo alle iniziative di collegamento tra paesi emergenti e il suo Abruzzo. Far conoscere l'Abruzzo, dove è situato l'Abruzzo, perché molti non lo conoscono, ma anche per aprire la strada ai nostri imprenditori dove possono commercializzare con altri paesi. Questa volta è stata la Corea del Sud, ma ci saranno ancora altri ambasciatori che verranno qui. A presentarsi davanti a un parterre di 40 imprenditori è l'ambasciatore coreano Yong Yun Lee, che spiega di essere in visita per sondare le potenzialità di mercato della nostra regione, offrendo la possibilità di proporsi a tutte quelle imprese interessate alla Corea del Sud. Questa è una buona opportunità oggi attraverso il seminario per conoscere di più i settori di attività e di sviluppo che possono esserci con la regione Abruzzo. Nel momento in cui le imprese abruzzesi fossero interessate a incontrare o a fare scambi tecnici commerciali con queste imprese coreani, noi potremmo comunque organizzare un luogo e altre varie opportunità di collaborazione future. L'Abruzzo non è nuovo nei rapporti di esportazione con la Corea. La Corea, infatti, come spiega il presidente della Camera di Commercio di Pescara, solo due anni fa sono già stati stretti i rapporti economici che oggi toccano la cifra di 26 milioni di euro sull'intero territorio. La Corea, infatti, si presenta come una terra economicamente ricca e ricettiva. A giugno ci sarà una nuova missione che, siamo convinti, sarà numerosa anche questa. Stamattina ci sono 40 aziende che si sono iscritte a partecipare all'incontro con l'ambasciatore Lee e con il direttore della Camera di Commercio italo-coreana, il dottor Martolana. Stiamo parlando per l'Abruzzo di 26 milioni di euro di esportazione base 2014 e che sembrano un numero non importante, ma se tiene presente che c'è stato un aumento di quasi il 30%, siamo passati da 20 milioni a 26 milioni nel giro di un anno, lei capisce che è un mercato assolutamente interessante. Noi ci spostiamo all'Aquila perché questa mattina davanti a 1.400 allievi il professor Antonino Intelisano ha tenuto una lezione magistralis per inaugurare il nuovo anno dei giovani allievi marescialli. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza oggi all'Aquila alla presenza del professor Intelisano che ha tenuto agli allievi un alezio magistralis. 1.400 allievi presenti nella scuola di Coppito, vera eccellenza nel campo della formazione, un terzo degli allievi sono donne. Oltre ai tre tradizionali corsi per formare i futuri marescialli, ne esiste anche un quarto, riservato quest'ultimo a personale già in servizio, personale che decide di diventare maresciallo. Al momento a questo corso partecipano circa 200 finanzieri. A fare gli onori di casa il comandante della scuola, il generale Michele Carbone, che ha ringraziato il comandante in seconda della finanza presente oggi all'Aquila, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Il generale Carbone ha ricordato l'innalzamento della didattica negli ultimi anni, grazie anche a docenti universitari qualificati e a magistrati che collaborano con la Guardia di Finanza. Carbone ha avuto parole di stima anche per il professor Antonino Intelisano, procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha voluto condividere con la scuola aquilana la giornata di inaugurazione, con una prolusione più che autorevole. Cambiamo argomento, parliamo di fondi europei, dei fondi PORFESR, perché la Commissione europea controlla l'applicazione dei fondi nella nostra regione, previste visite di controllo in strutture pubbliche e private da parte del rapporter Luigi Nigri. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Visita in Abruzzo del delegato della Commissione europea Luigi Nigri per quanto riguarda la gestione dei fondi PORFESR. In particolare sono state visitate alcune aziende del polo di innovazione automotive a Castellalto e a Montesilvano. In quest'ultima è stato messo in risalto il progetto innovativo denominato SHELTER, che consiste nella creazione di un veicolo trasformato per favorire consegne di genere alimentare a temperatura controllata. Un sistema che da un lato permette di ridurre l'impatto ambientale generato dai veicoli commerciali e al tempo stesso di garantire una migliore tutela della tenuta dei prodotti alimentari trasportati. La visita di Luigi Nigri in Abruzzo è destinata a controllare le strutture pubbliche e private beneficiari di finanziamenti europei per progetti attivati nell'ambito dei PORFESR 2007-2013. Abbiamo già visitato un progetto significativo, anche questo è molto significativo, che ci mostra con molta chiarezza e con dei fatti che è possibile avere delle forme di collaborazione utili e proficue tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, per rafforzare la presenza dell'Abruzzo sui mercati e quindi avere più ricchezza e più posti di lavoro. Andiamo avanti con il nostro giornale, ci spostiamo a Teramo perché questa mattina è stato presentato presso l'Università del Capoluogo Aprutino il corso di scrittura creativa dal titolo come raccontare il corpo, corso curato dallo scrittore Andrea Carraro e da Gwendalina Di Sabatino del centro Anna Arendt e sostenuto dall'Ateneo Teramano. Elisa Leuzzo. Rettore, l'Università di Teramo oggi si ricchisce di un altro corso, quello dedicato alla scrittura creativa. Certamente ed è un corso straordinario per la qualità dei relatori, la qualità dei docenti, per il coordinamento che viene assicurato da Andrea Carraro e per il partenariato con cui è stato realizzato questo corso, il centro Anna Arendt. L'Ateneo non può che ringraziare il centro Anna Arendt nella persona di Gwendalina Di Sabatino e Andrea Carraro come coordinatore del corso. Si chiama quindi Come raccontare il corpo? Un corso di scrittura creativa? In cosa consiste? È un corso di scrittura creativa abbastanza tradizionale, però di diverso rispetto a un corso tradizionale c'è l'attenzione appunto verso il corpo, quindi verso tutte le espressioni del corpo, la fisicità soprattutto. Scrivere, l'importante della scrittura narrativa che intendo trasmettere a questo corso più che insegnare è raccontare l'uomo in tutte le sue sfaccettature, del resto la letteratura da sempre si occupa di questo, di raccontare l'uomo. La data di inizio del corso e la durata? Il corso inizierà il 5 aprile con Sebastiano Nata, lo scrittore Sebastiano Nata e concluderà il 7 giugno con il critico letterario Filippo Laporta. Il corso è articolato in dieci lezioni, ogni lezione sarà preceduta dall'incontro con uno scrittore, critico letterario, regista, avremo scrittrici e quindi è un complesso impegnativo ma è rivolto agli appassionati di scrittura e anche agli studenti dell'Ateneo Terramano e alla fine del corso i racconti saranno pubblicati in antologia, un'antologia curata dallo stesso conduttore del corso Andrea Carraro. E noi restiamo a Teramo perché al via il gemellaggio tra il Gran Sasso e la Laguna, il comune di Crognaleto, piccolo centro proprio in provincia di Teramo e Venezia, diventano sorelle di gusto attraverso un protocollo d'intesa che è stato presentato oggi. L'11 marzo l'incontro presso il comune di Venezia è la firma del protocollo d'intesa con l'associazione veneziana Albergatori per progetti di alternanza a scuola-lavoro che vedranno coinvolti gli studenti del di Poppa di Teramo. Questo per dare la possibilità ai nostri alunni di fare delle esperienze di alternanza scuola-lavoro fuori dal nostro territorio, in una località turistica all'avanguardia come la città di Venezia, in alberghi a 5 stelle. Chiaramente i nostri ragazzi avranno la possibilità di fare un'esperienza di eccellenza. Quale sarà il primo step? Quindi abbiamo subito deciso di iniziare questa esperienza con l'organizzazione di un evento promozionale presso un albergo di Venezia. Il nostro personale, quindi gli insegnanti tecnico-pratici di cucina, di sala e di accoglienza turistica organizzeranno questo evento insieme ai nostri studenti, quindi le competenze di tutto il mio personale ci permetterà di organizzare questo evento. La novità sarà anche la degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. Saranno i produttori della nostra eccellenza la ditta l'azienda Montecchia, Fracassa, l'Alpino, la Tacchinella, Di Domenico Antonio, la Loggia Antica, Tassoni Tartufi, Del Colle, Castelcastagna, Masciarelli, Nicodemi, Biaggi e Ciotti. Come vedete l'eccellenza del nostro territorio. È una soddisfazione immensa sapere che il mio comune, la mia agenda, il mio territorio insomma arriva a Venezia, come dire, in pompa magna, con il supporto ovviamente del BIM che io ringrazio per la grande disponibilità dell'Istituto di Poppa e di tutti coloro che hanno patrocinato l'evento e danno delega al sottoscritto di rappresentare l'Abruzzo in una città importante come quella di Venezia. E noi siamo allo sport, parliamo di calcio del Pescara che prosegue la preparazione in vista dell'attesa sfida di sabato allo Stadio Adriatico con il Novara dell'ex tecnico pescarese Marco Baroni. Oggi allenamento sotto la pioggia al poggio degli ulivi per i ragazzi di Massimo Oddo. Il tecnico Biancazzurro deve ancora sciogliere diversi dubbi da valutare proprio nelle prossime ore le condizioni di Memushai e di Verre che sono e restano in dubbio per la gara di sabato. Non ci sarà Campagnaro che potrebbe tornare nel posticipo di Crotone. Crescensi si è allenato con il gruppo anche se non ha forzato e le sue quotazioni sono sicuramente in rialzo. Ma nella giornata di oggi a tenere ancora a banco anche a pescare la terribile vicenda che ha riguardato indirettamente il centrocampista pescarese Rolando Mandragora con l'omicidio ieri sera dello zio, un omicidio avvenuto a Napoli dove lo zio Maglio Barometro, vigile urbano di 58 anni, è stato ucciso a colpi di pistola proprio nel capoluogo campano. Oggi a Pescara è arrivato proprio il procuratore di Mandragora Pisacane per chiarire la vicenda e soprattutto per proteggere, se così possiamo dire, proprio il suo assistito Mandragora che come si ricorderà poche settimane fa è stato acquistato dalla Juventus. Il giocatore oggi però si è allenato regolarmente con i compagni. È il momento dunque resta a Pescara. Vediamo il servizio e andiamo ad ascoltare proprio Pisacane. Purtroppo è capitata una cosa che nessuno di noi si aspettava, in primis lui, e quindi voglio solamente che lui stia tranquillo e che comunque stia sereno nel suo dolore. Io sono qui oggi anche per dire questo, che vorrei che non si strumentalizzasse questa cosa nei confronti di Rolando. È un ragazzo di 18 anni che deve stare tranquillo e deve provare a dimenticarsi in fretta di quello che è accaduto. Purtroppo non sarà facile per lui perché è normale, è un parente, è un fratello della mamma. Se avete letto la carta stampata di oggi, da soli potete capire che parliamo di tutt'altro. Nel senso che lui era purtroppo un vigile urbano, quindi una persona che faceva capo alle forze dell'ordine, quindi escluderei ogni tipo di cretinata, mi permetto di dirlo, che è uscito su alcuni siti, alcuni giornali. Parliamo di tutt'altro. Purtroppo saranno poi gli inquirenti a stabilire il perché e per come. Io non voglio fare quello, voglio solamente dire che sono vicino alla famiglia perché in un momento del genere è l'unica cosa che mi viene da dire. Lei si è anche sentito con Marotta della Juventus? No, io ho sentito tutti della Juventus. A parte che sono stati vicino perché penso che sia giusto così e poi vogliono che il ragazzo stia tranquillo, nel senso che non sia strumentalizzato più che altro tutto questo, perché penso che sia abbastanza forte quello che è successo. Non credo che vada anche strumentalizzato. Tutti i giocatori del Pescara che si sono più che mai stretti attorno al loro compagno in questo momento davvero difficile. Noi parliamo ora ancora di Serie B di calcio e del Lanciano che continua la preparazione in vista proprio dello spareggio Salvezza che si giocherà sabato alla Reiki di Salerno dove sono previsti oltre 15.000 spettatori. La squadra intanto continua ad allenarsi. Domani è prevista una seduta a San Giovanni Teatino proprio per via della pioggia e delle cattive condizioni meteo. Noi andiamo a vedere il servizio curato da Andrea Costantini. Il blitz della Saganitana sul campo del Cesena di due giorni fa rende ancora più importante lo sconto diretto di sabato prossimo alla Reiki tra l'undici di Menichini e la Virtus Lanciano. Posta in paglio altissima in quella che è una sfida salvezza con tutti i crismi e alla quale la Saganitana arriva con il morale a mille dopo essere tornata ad una vittoria che mancava da sei partite. La Virtus si presenterà comunque in terra campana con tre punti di vantaggio e l'obiettivo dunque di non farsi quantomeno agganciare. Per la squadra di Primo Maragliulo sarà un ulteriore test di maturità. La gestione tecnica dell'allenatore Salentino ha prodotto risultati entusiasmanti cui hanno contribuito le scelte del tecnico stesso e la spensieratezza dei tanti giovani arrivati. Il talento c'è, resta ora da verificare come questi giovani reagiranno con l'andare avanti del campionato e a mano a mano che i punti in paglio cresceranno come peso specifico. Una bella sfida dunque per l'undici rosso-nero che dopo la vittoria sul Brescia per qualche ora è stato fuori dalla zona play-out per poi rientrarci a seguito delle vittorie di Provercelli e Modena. Una sfida resa ancora più difficile dalla penalizzazione, i punti reali al momento sarebbero 35, piena zona salvezza dunque, in attesa di sviluppi per l'ultimo deferimento di un paio di settimane fa. Intanto la squadra continua a lavorare, Alessio Cragno dopo il riposo precauzionale di ieri è tornato a lavorare oggi in via differenziata nella doppia seduta. Salviato ancora una volta non ci sarà ma rientrerà Aquilanti. A Salerno intanto il patronne Lottito carica l'ambiente e chiama a raccolto il pubblico affinché affogli la Rechi per quella che ha definito già la partita della vita. Menichini sarà privo dello squalificato Zito, del difensore Colombo, in forte dubbi invece Oikonomidis. Dubbio anche il modulo se 4-3-3 o 4-4-2? Nel primo caso troverebbe spazio l'ex Leonardo Davide Gatto. Siamo alla Lega Pro per parlare del Teramo che sabato ospiterà la Carrarese. Non ci sarà Caidi che è squalificato. Noi andiamo ad ascoltare l'attaccante Le Noci. L'obiettivo nostro è giocare tutte le partite alla morte, una partita alla volta e poi fare i conti a fine campionato. Sicuramente andiamo a fare più punti possibili per tirarci fuori definitivamente dalla zona sotto, dalla classifica. Poi dopo vediamo se siamo stati bravi a mettere un po' di risultati consecutivi, cosa che ci è mancata un po' fino adesso. Poi vediamo. Il gol manca perché comunque per un attaccante il gol vuol dire tanto, quindi sicuramente manca. Però penso che poi la cosa fondamentale sia che la squadra vinca, quindi quello che conta la prossima partita sono i tre punti, indipendentemente da chi scende in campo e da chi dovesse segnare. Attaccante io penso che secondo me deve fare quello che sta facendo fino adesso in allenamento, perché comunque lui ma tutti ci stiamo impegnando al massimo, diamo sempre tutto quello che possiamo dare, dare tutto in campo. Poi se uno ci crede dà veramente tutto, tutti i giorni, prima o poi poi la ruota gira, quindi si tornerà, spero, prima possibile tutti a togliere soddisfazioni, anche personali. Noi restiamo a parlare del Teramo con una notizia giunta nel pomeriggio in redazione, perché la società sportiva Teramo Calcio, come si legge in un comunicato sul sito ufficiale, comunica appunto l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il team manager Alessio Peroni. Risoluzione avvenuta in data odierna, la società bianco-rossa si legge sul sito del Teramo, nella persona del presidente Luciano Campitelli, desidera ringraziare sentitamente Peroni per l'impegno da lui profuso in cinque stagioni ricche di successi e nel contempo coglie l'occasione per augurargli un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali. Siamo al campionato di Serie D, perché la Miternina, reduce da una sconfitta proprio nell'ultimo turno in casa con l'Agnonese, ha sollevato ieri sera dall'incarico l'allenatore Vincenzino Angelone, in attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo tecnico, al suo posto sarà chiamato a dirigere la squadra Candido di Felice, che potrebbe anche proseguire la sua avventura sulla panchina aquilana fino al termine della stagione. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la nostra seconda edizione del TG6, vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, questa sera alle 23, ma non perdete alle 21 invece l'appuntamento con Virtustyle, con il nostro Alessio Gian Cristofaro e i suoi ospiti per parlare delle vicende rossonere del Lanciano. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.